Ecco dunque che la filosofia viene descritta come la capacità di fatto di cogliere la realtà del reale, ovvero la razionalità del reale. Comprendere la realtà significa comprendere quel filo logico che la regola, che la sviluppa, cioè comprendere letteralmente la struttura interna, appunto il polso interno, come dice Hegel, della realtà. Detto questo, Hegel precisa ancora come si è strutturata la filosofia. Da un lato, egli ha insistito sulla struttura concettuale della filosofia, cioè sulla capacità della filosofia di cogliere tutta assieme la realtà, quindi le connessioni interne della realtà. D'altra parte però, egli afferma qualcosa nel rapporto tra la filosofia e la sua storia, e diciamo così, la storia in generale. La filosofia, scrive Hegel, è il proprio tempo appreso con il pensiero. In questa descrizione della filosofia emerge chiaramente come appunto la filosofia sia comprensione della realtà presente, di ciò che è, come dice Hegel. Ciò che è non è semplicemente la realtà di questo momento, ma la realtà così come si è sviluppata. La comprensione del proprio tempo con il pensiero significa comprensione di ciò che è stato e di ciò che è, cioè di come le cose sono andate sviluppandosi e di in che senso il presente rappresenta il compimento di ciò che è accaduto prima. Quindi la comprensione, come dicevo prima, della logica, del senso di ciò che sta accadendo e di ciò che è accaduto. Comprensione del proprio tempo non significa descrizione banale di ciò che accade, ma appunto radiografia di ciò che accade come risultato di ciò che è accaduto in precedenza. Ed è per questo che la filosofia coincide con la sua storia, cioè con lo sviluppo del pensiero stesso. Però Hegel non si limita a dirci che la filosofia è comprensione della realtà così come si è realizzata, ma conseguentemente, proprio perché la filosofia è comprensione di ciò che è, non è al contempo comprensione di ciò che sarà. Cioè Hegel, nel momento stesso in cui afferma il primato della filosofia, afferma anche che la filosofia non può e non deve pensare di poter dire qualcosa sul futuro. Cioè il compito della filosofia è la comprensione del reale e il reale è ciò che si è realizzato, non ciò che si realizzerà. Per così dire, comprendere ciò che si realizzerà domani o tra dieci anni sarà compito della filosofia che si svilupperà tra dieci anni. E quindi, dice Hegel, è altrettanto insensato a figurarsi che una qualsiasi filosofia va dal di là del mondo presente, quanto che un individuo saldi il suo tempo. Se la sua teoria nel fatto va al di là di quello, se egli costruisce un mondo così come deve essere, esso esiste sì, ma soltanto nelle sue opinioni. Quindi, la filosofia nel momento in cui si azzardia a dire qualcosa di come dovrebbe essere il futuro, smette di essere filosofia, esprime delle opinioni ma che hanno lo stesso valore delle opinioni di chiunque altro, di qualunque altra disciplina. La filosofia non si occupa di ciò che dovrà essere o che potrà essere, ma di ciò che è. Non ha quindi alcuna giurisdizione nel determinare il futuro, nell'ipotizzare il futuro, nel programmare il futuro. Dice poi Hegel, del resto, anche a dire una parola sulla dottrina di come deve essere il mondo, la filosofia arriva sempre troppo tardi. Non solo per sua natura la filosofia è legata al proprio tempo, nel senso che esprime quella consapevolezza della realtà che l'umanità ha raggiunto fino a quel momento, ma anche se volesse provare a dire qualcosa su ciò che sarà, dice Hegel, la filosofia arriva sempre troppo tardi. Perché? Perché non solo la filosofia dice qualcosa della realtà che si è realizzata fino a quel momento, ma per così dire lo dice già in ritardo. Cioè lo dice nel momento in cui la realtà che quella filosofia esprime sta già scomparendo, sta tramontando. Di fatto la filosofia può ragionare sulle cose una volta che le cose sono avvenute, non mentre stanno avvenendo o mentre stanno per avvenire. E di fatti Hegel utilizza, diciamo così, una metafora molto forte che rimane nella storia della filosofia. Hegel dice, come pensiero del mondo essa appare per la prima volta nel tempo dopo che la realtà ha compiuto il suo processo di formazione ed è belle fatta. Questo che il concetto insegna la storia mostra appunto necessario, che cioè prima l'ideale appare di contro al reale nella maturità della realtà, e poi esso costruisce questo mondo medesimo colto nella sostanza di esso in forma di regno intellettuale. Quando la filosofia dipinge a chiaroscuro, allora un aspetto della vita è invecchiato e dal chiaroscuro esso non si lascia ringiovanire, ma soltanto riconoscere. La nottola di Minerva inizia il suo volo sul fardo e crepuscolo. La metafora che Hegel utilizza, quella della nottola di Minerva, identifica la filosofia come un animale notturno, come un uccello notturno, ovvero la sapienza, la nottola di Minerva è appunto una civetta che nell'iconografia classica veniva rappresentata come animale simbolo della dea Minerva, cioè la dea greca e poi romana della sapienza. Quindi la sapienza giunge, per così dire, di notte, cioè dopo che la realtà si è sviluppata, nel momento in cui la giornata finisce, la giornata in cui si sono svolte delle attività, in cui la realtà ha manifestato se stessa, si è conclusa, alla conclusione di una manifestazione della realtà, la filosofia può proporre le sue riflessioni su questa realtà che si è sviluppata. E certamente, come ogni uccello, la filosofia è in grado di guardare le cose dall'alto, per così dire, standone già fuori, stando al di sopra di esse, appunto con una visione concettuale, che vuol dire una visione globale, una visione di insieme e non una visione parziale. Ma questa visione panoramica è possibile soltanto nel momento in cui la realtà si è già completamente sviluppata e quindi, per intenderci, la sera, la notte, quando ormai scende il crepuscolo sulla giornata che si è svolta. La filosofia traccia come un bilancio di ciò che è accaduto, ma questo lo può fare soltanto quando l'accaduto, per così dire, ha lasciato il campo, soltanto quando si può osservare quelli che sono gli effetti di ciò che è accaduto, esattamente come la notte si possono vedere i risultati di ciò che durante la giornata ha trasformato la realtà. Quindi la metafora della nottola di Minerva, da un lato, sottolinea la capacità onnicomprensiva della filosofia, la sua capacità riflessiva di comprensione profonda della realtà, ma al contempo segnala anche quanto la filosofia non possa mai anticipare i tempi, ma è sempre chiamata a riflettere una volta che le cose si siano manifestate e quindi a comprenderle quando si siano già compiute.